Ben trovati ai telespettatori di Cilento Channel, ci colleghiamo nuovamente con il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, per fare un po' il punto della situazione. Sindaco, buongiorno e ben trovato. Buongiorno, ciao Raffaella, un saluto a tutti gli amici che ci seguono da Cilento Channel. Allora, come anticipavo, in apertura vorrei un po' fare il punto della situazione con lei per quanto riguarda la città di Agropoli, partendo da quello che un po' interessa in questo momento è l'approvazione del PUC, il 28 dicembre ci sarà il Consiglio Comunale. Allora, come procede? Diciamo che è una delibera diversa dalle altre, è chiaro che è una delibera molto attesa. Sono ormai quasi 50 anni che la città aspetta uno strumento urbanistico. Quindi è un lavoro che ci ha portato via tanto tempo, specialmente nell'acquisizione dei pareri. C'è voluto un lavoraccio, atteso anche il fatto che nel 2020, come sapete, c'è stato il Covid, quindi ancora più difficile è stato interloquire con gli enti salordinati per ottenere una risposta. Alla fine ce l'abbiamo fatta, ci avviciniamo al voto del 28. È chiaro che questo lavoro, come sapete, la legge dà in capo all'aggiunta il lavoro di redazione e si arriva poi al Consiglio Comunale, dove il Consiglio poi dovrà esprimere anch'esso, per la prima volta chiamato a dire la sua il Consiglio Comunale, dovrà anch'esso dare il suo parere, il suo contributo, ci auguriamo positivo, al lavoro che è stato fatto in questi mesi, in questi anni. Siamo tranquilli che la cosa vada naturalmente a buon fine. Dopo che sarà approvato, poi lo commenteremo e daremo tutte le notizie, anche perché credo che se tutto andrà bene comincia un nuovo percorso per la città. Questa nuova strumentazione va, io credo, anche spiegata meglio alla cittadinanza, perché chi come noi l'ha approfondito ha capito che all'interno ci sono tante nuove possibilità, tante possibilità nuove che possono essere accolte e in qualche modo possono aiutare la crescita della nostra città. Quindi sarà il nostro compito spiegarlo bene ai cittadini e far capire tutte le nuove opportunità che a loro vengono date. E questa è la domanda che ci occuperemo subito dopo il voto, subito dopo il 31, poi cominceremo subito dall'inizio dell'anno a lavorarci. Manca un solo giorno alla vigilia del Santo Natale e sappiamo che come da disposizioni governative scatterà la zona rossa. Come si sta preparando la città di Agropoli per i controlli? Credo innanzitutto che la città di Agropoli ha poco da prepararsi, nel senso che in questi mesi ha dimostrato ampiamente di sapersi comportare, i cittadini si sono comportati benissimo, non è un caso che andando a guardare la tabella dei contagi noi siamo fortunatamente, ma non credo non fortunatamente, forse diciamo prendiamoci un pizzico di merito, grazie all'attenzione che i cittadini hanno avuto, grazie al nostro contributo se volete siamo riusciti a mantenere basso il numero dei contagi, quindi credo che se questo è accaduto abbiamo saputo rispettare le regole e quindi la zona rossa non ci preoccupa. È chiaro che come abbiamo sempre fatto ci saranno dei controlli, ma ripeto le forze dell'ordine sanno già che i cittadini sapranno come comportarsi quindi non ci sarà io credo particolare tribolazione per loro, atteso io credo un comportamento corretto. Altre città, altri luoghi della nostra regione e della nazione probabilmente devono essere più controllate probabilmente la scelta del governo di imporre la zona rossa in tutto il territorio nazionale è dovuto forse a delle cose che non sono successe certo ad Agropoli, perché le immagini a Milano, a Roma, a Napoli di tutte quelle persone che sono recate subito dopo l'arrivo della zona gialla in maniera massiccia senza stare attendo alle distanze, ha impressionato io credo anche tanto il governo che l'ha spinto a tornare indietro e quindi a correre ripari. Nel nostro caso non c'era bisogno perché noi già avevamo agito bene, quindi noi paghiamo probabilmente oggi un restringimento che non ci meritavamo, diciamola così. Quindi io credo che le forze dell'ordine fanno poco da lavorare perché credo che i cittadini si sapranno comportare. Sindaco, un altro argomento di cui si sta discutendo tanto in questi giorni, lo vediamo dai social è la questione scuola. Un folto gruppo di genitori sta per raccogliere delle firme che vanno un po' contro la decisione del Comune per quanto riguarda la chiusura delle scuole. Non sono d'accordo con la sua decisione. Che cosa possiamo dire a queste famiglie e poi che cosa succederà dopo il 7 gennaio? Ma è chiaro che ogni decisione porta evidentemente degli scontenti nel senso che qualunque scelta uno fa avrà delle valutazioni positive da chi magari le condivide e chi ne intravede l'utilità e delle situazioni invece negative da chi non le condivide. E' chiaro quindi che il primo cittadino, come tutti gli occhi politici, sono soggetti a delle critiche. Io li accetto volentieri perché credo che nelle cose che vengono dette ci sono anche delle verità indubitabili. E' chiaro che la scuola ha sofferto un po', forse anche troppo, delle restrizioni che ci sono state e quindi molti bambini hanno probabilmente anche sofferto dell'impossibilità di ricarsi a scuola. E' chiaro che socializzare per i ragazzi è la cosa più importante e quindi questa mancanza di socializzazione sicuramente ha un po' mortificato tante aspettative di bambini e di genitori. Dall'altra parte però, se questo è vero, è pur vero che le scelte non sono state fatte per danneggiare nessuno, tutt'altro. Noi tutti abbiamo i figli, quindi avremmo piacere che potessero girare liberamente, ma è chiaro che esistono delle valutazioni che vengono fatte solo a base di calcoli, di dati. Allora, io ho chiarito nell'ordinanza, per quel che ne ci riguarda, che rispetto a una popolazione studentesca che arriva fino alle scuole medie, se vogliamo considerare solo il ciclo didattico obbligatorio, stiamo parlando di più di 2.000 studenti e quindi quando si mettono in moto 2.000 studenti con professori, con personale docente e non docente in generale, con genitori che si mettono in moto, mette in moto una città. Quindi è chiaro che tutto questo poteva, e questo abbiamo valutato, anche mettere a rischio il livello basso dei contagi che abbiamo ottenuto, che abbiamo conservato. Questa è una prima considerazione. Questa considerazione si lega evidentemente al fatto che nella critica che mi è stata sottoposta si faceva riferimento al fatto che abbiamo fatto delle inaugurazioni o abbiamo partecipato a degli eventi cittadini, quali per esempio l'accensione delle luminarie, quali la presenza mia in apertura di nuove attività commerciali. E credo che questa sia una colorazione sbagliata che è stata fatta, perché nel caso dell'accensione delle luminarie non c'è stato nessun evento pubblico organizzato. Abbiamo soltanto, come dire, o soltanto presente all'accensione delle stesse senza che ci fosse niente di organizzato vicino e credo che l'accensione delle luminarie è stato comunque un momento positivo per la città, perché in un momento buio quella luce ha rincuorato tante persone, quindi penso che abbiamo fatto lì una scelta giusta. Per l'apertura dei negozi anche quelle aperture danno un segnale positivo alla città di incoraggiamento che segnala il fatto che non ci possiamo fermare e quindi andavano premiati con la mia presenza, io credo, con la presenza non mia, del primo cittadino, quelle attività che hanno avuto il coraggio di affrontare un'apertura in questo periodo. È chiaro, anche, è evidente che un'apertura di un locale può mettere in movimento 50 persone e non 5.000 quali le aperture delle scuole. Quindi, diciamo, il raffronto tra queste due cose credo sia improponibile. E concludo, insomma, dicendo anche che io ho fatto una votazione sulla base dei dati, che non c'erano, perché lo screening che riguardava le nostre scuole praticamente non si è svolto sostanzialmente, pochissime persone avevano fatto i tamponi per verificare la situazione di compatibilità e quindi io non potevo prendere una decisione sulla base di dati certi che non c'erano. E quindi in quelle incertezze ho fatto la scelta più prudente. Questo è il ragionamento che mi ha portato a fare questa scelta. È chiaro che le condizioni non sono le stesse a gennaio, perché credo che gli ultimi dieci giorni è stato più prudente, ecco, tenere chiuso. È chiaro che ora, andando a ricominciare l'anno scolastico, avendo di fronte a noi mesi, insomma, di possibilità degli studenti, è chiaro che stiamo lavorando per la riapertura. Abbiamo, tra l'altro, non solo, implementato ancora in questi giorni, in particolare la scuola media, una serie di interventi della scuola per rendere ancora più sicura la stessa, con il posizionamento di misuratori di temperatura all'ingresso, con l'arrivo di nuove banchi e di nuove sedie per rendere ancora più sicure le scuole. Quindi abbiamo continuato a lavorare per migliorare la sicurezza delle scuole. Abbiamo lavorato con la Prefettura su un tavolo aperto che abbiamo svolto in questi giorni per implementare anche la possibilità di aprire le scuole superiori, rafforzando, studiando come rafforzare, differenziare l'ora di ingresso, rafforzare il trasporto e differenziare l'ora di ingresso. Quindi abbiamo lavorato per riaprire le scuole con l'anno 2021. L'approccio quindi sarà diverso e è chiaro che dobbiamo imparare a condividere, a vivere in presenza del virus, anche perché sta cominciando ad arrivare il vaccino, quindi la prospettiva certamente è una persona nuova, diversa e quindi ci farà aprire con maggiore serenità le scuole stesse e quindi quella prudenza utilizzata forse in questi giorni in qualche modo potrà anche essere messa da parte, atteso tutte queste novità, un ulteriore rafforzamento della sicurezza nelle scuole, un'organizzazione dei trasporti diversi, l'area del vaccino sono notizie buone che ci danno un quadro diverso in cui possiamo essere più, meno prudenti, come dire, più coraggiosi e poter quindi aprire per gennaio le scuole, credo cominciando certamente con le scuole obbligatorie ma probabilmente anche con le scuole superiori. Quindi dal 7 gennaio ci sarà la ripartenza delle scuole in città? Stiamo lavorando per la ripartenza delle scuole.